Ed io sono qua per farvelo capire. Praticamente il bambino ha bisogno di nutrimento. Cos'è il nutrimento? Ve lo spiego subito. È il raggiungimento del fabbisogno. Il fabbisogno di un bambino è minore rispetto a quello di un adulto. La fase orale. Dove si mette tutto in bocca. Freudiano, ti ricordi quella cosa là? Una di queste cose qua che si mette in bocca è il capezzolo della mamma. Ragazzi, voi sapete come funziona l'allattamento? Scrivetemi sì o no in chat, per favore. No, spiegamelo. No, no, no. Le persone tendono a discriminare questo comportamento. Perché non è? Bro, assurdo. Alcune persone quando sono in giro per strada dicono che è schifo. No. Guarda... Ma perché non è? Perché disturba la quiete, la gente si agita. A vedere un seno. A vedere un allattamento. Quale di una cosa così normale. Ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Vieni qua, bro. No! Mostra la tua cosa e poi vengo. Vieni qua, vieni qua, bro. Mostra la tua cosa. Dai, vieni qua. Sto giocando a Slay the Spires. Allora, ragazzi. No, no, quello che fai? È bannabile? Potrei tirare una cazzata, ma secondo me ti bannano. Magari mi sbaglio. Vai fino in fondo. Allora, aspettate ragazzi un attimo, eh. È il titolo dell'incontro che si svolge sabato 6 ottobre, dalle ore 9 alle 12, presso il Salone Estense del Q. Scusate, mi stavo leggendo un articolo che stavo guardando. Si è visto cosa? Ragazzi, che si è visto? Ram e The Real, grazie del sub. Ragazzi, ma che si è visto? Mi dissocio da tutto quello che potrebbe essere bannabile. Stavo leggendo un articolo perché ho visto che tra le eccezioni del regolamento di Twitch c'è il breastfeeding. E volevo, volevo vedere di cosa si stava parlando perché non conosco bene l'inglese. Che è successo? Che è successo? Ragazzi, non è successo niente. Google immagini. Mi dissocio totalmente, eh. Non volevo far vedere quello, mi stavo leggendo un articolo. Non si è visto niente, infatti. Mi dissocio subito. Ragazzi, mi dissocio assolutamente. È stato un microsecondo. Dai, ragazzi, minchia. Vabbè. Ma comunque posso parlarne quindi di quello che volevo parlare. Marco, dai, vieni qua, socio. Ehi, socio. Vieni qua, dai. Socio. Ehi, Marco. Che fai? Mi ignori? Sei in camera mia? Seduto sul mio letto? Marco! C'è Marco che mi ignora. Vabbè. Faccio una piccola dimostrazione succhiando le lumbelle di Danny Metal. Non si vedono. Ok. Guardo subito. Marco. 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 Gianluca ti sta chiamando. Bro. Aspetta che mi chiamo Andrea. Oi, Andrea. Oi, Andrea. Ehi. Io ci sono, eh. Ci sei? Ah, ok. Stavo parlando un po' di breastfeeding qua in live per fare informazione. relations apropiare. Grazie a tutti.